Io sono Tony Montana, un prigioniero politico. 1980, Miami era la piccola Cuba. In questo paese devi fare la grana prima. E quando hai fatto la grana, c'hai anche il potere. Quando hai il potere, allora c'hai pure le donne. Ascese e declino di un uomo disposto a tutto per inseguire il sogno americano. Vuoi ballare tu? Io mi prendo tutto quello che posso. Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Scarface, un film di Brian De Palma. Tra poco, Rete 4.